Salve ragazzi, passando qui per le strade di campagna qualche giorno fa ho trovato un carretto. Da noi è il cosiddetto traino, dove le persone di una volta mettevano le robe raccolte dalla terra e lo usavano per trasportarlo dal punto A al punto B. Ecco, questo carretto era davvero ridotto male in legno, all'estremità dei lati tutto fraciullato, la parte di sotto, il fondale, anche fraciullata, quindi non c'era niente più che si poteva recuperare, però ho notato che la struttura di per sé, quella esterna, stava ancora in buone condizioni, quindi ho deciso di ristrutturarlo. E adesso voglio farvi vedere quello che ne è risultato con un po' di fantasia e materiali recuperati dalla mia cantina. Ecco qua il carretto, che ho trasformato come piccolo orto orto rialzato, come potete vedere, davvero molto carino. Perciò ragazzi, spesso serve un po' di fantasia e anche un po' di fortuna a trovare un carretto del genere per la strada e con materiali di scarto senza spendere grandi soldi si può fare davvero qualcosa di simpatico per il nostro giardino.